Buongiorno, buongiorno, ci siamo, ci siamo, coccodrini... Curre, 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 è pieno di sorca. Sta pieno? Sta pieno, sta pieno di sorca. No, davvero? Sì, guarda, guarda. Ma com'è? Guarda, tutta nera, tutta nera sono. Riccio anche? Sì, tutto quello nero, riccio, riccio, vieni a vedere, curre. Spera, 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 spera. Allora, se recitamo così, non andiamo da nessuna parte, te lo dico. E allora smettiamo e giamo a casa. No, cioè, uno, metteci più enfasi. Cioè, come ti insegno io? No, fa così. Fa così, no. No. Vabbè. Vabbè. Sto vabbè, te lo spiego, comunque, me ne intendo un po'. Perché so, visto, tu devi Instagrammare le cose. Dimmi una cosa, tommeno me la rompono di coglioni. Aspetta. Lepete, fanno passare. Aspetta. Ma, che aspetto? Fa me, fanno. No. No. Devi fare tipo una proboscite. Va bene. Aspetta, devi fare tipo una proboscite nell'elefante. No. No. Più l'elefante. No. No, vabbè, vabbè. No. No, te sciacquati con i coglioni, vabbè, fanno culo. No. Ma vabbè, fanno culo. No, un'altra. Vabbè, 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 vabbè. No, no, le minacce no, le minacce no. Vabbè, vabbè, vabbè. Vabbè, fermi. Ti fermi. Ah. Vabbè. No. Sì, sì, ma tu te la piace. Eh, la tangente ti piace, amico mio. Sì, ma tu? Eh, ti piace la tangente. Non me la fa passare. Guarda come in saccoccia. Beh, non la metti per terra? Guarda come in saccoccia, la tangente ti piace, amico mio. Guarda come in saccoccia di coglione che puoi scappare, puoi vincere la piazza. La sera non ci vuoi dire, almeno intere la piazza. Eh, è bello gonfiottare. Una bicicletta. La testa. Gli la fai o no? No. Che stronzo. Prima è ormai l'è fuori, però. E via. 93 anni, raga. Guardate, e via. Gira. Bello, eh. Spurgatorio con Simone, ma illustraci il menù. Lasagne. Lasagne, poi. Frangozzi. Stop. Agnolotti. Mamma mori. Chicchi le patate. Sì. E candalo siciliano. Ah, come te sei. Grazie, grazie. Grazie. Grazie al cazzo. Esci da casa, guardate come parcheggio. Guardate. C'è un invalido che deve salire la rampa. Non la può salire, perché questo ha parcheggiato così. Guardate. È l'idea. Fiat idea del cazzo, eh. Oggi, chi ci è venuto a trovare? Ve lo ricordate, Enderi? Eh? Grande. Grande. Come stai? Questa è la macchina. Adesso gioca a Forlì. Vede l'amico. Eh? Ti ricordi? Adesso stai a Forlì. Quando sei venuto qua, con chi giocavi? Eh. Senza manco le scarpe, eh. Senza manco le scarpe, eh. Oggi ce le hai. Mamma mia. Oh, al top oggi, eh. Grande amico mio, Enderi. Grande. Devo passare... Stai anche sciupato. Macchina, eh. Che macchina. Che la voleva se candurra. Eh, guarda. La stai accarezzata. Guarda come la carenzi, il coccodrillo. Accarezza il coccodrillo, dai. La più bella auto d'Italia. Eh? E la voleva se candurre. La voleva se candurre. La voleva se candurre. Schifatevene. 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 Schifateva. La macchina ha trovato la squadra, sei contento? Non cambiate le c***e, sei contento allora? Ragazzi, un dedo è in grande, eh? Dormi? Grande, spacchiamo i social. Tornato, è tornato. Mangi, dai, prendi da mangiare. Che arrivi? Grande, ce la fai? Facciamo il cameriere. Vai, al 14. Oh, eccolo. È piccolo, ma mangia sto ragazzo, eh? Guarda, non fai mai parlare perché... Oh, ma anche la torta al testo, guarda la roba che hai preso. Com'è la torta al testo? È all'altezza? È all'altezza. Bisogna essere sempre all'altezza, Giallu. È uscito un po' di video. C'è il numero uno. Derma. Piccolo mangia, controlla la situazione figa. Io vi dico che è uscito un video pazzesco su la riabilitazione della cataratta con nonno Faustino. Fate swipe, andatela a vedere. C'è qualcuno che fa la dieta. È qualcuno che non ce la fa più. Ma tu li grazi, perché il bancone era troppo alto. Io non vedevo quanta roba... È vero, non vedevi. Eh, io vi dico, sì, sì, sì. Che ha il bancone troppo alto, sto posto. Diciamo questo. Non lo so. Vedete, qua c'è un bellissimo panorama. L'odio è lo spreco. Vai. Bravo. Stasera c'era vitronde e via. Top, bravo, Gallu. Così si fa. Non si spreca niente, ragazzi. Niente. Però peccato che non ci sta... Porta il testo di nonna Marie. No, rimettere subito dentro, queste sono sacre, è qua, eh. Oh, subito dentro. Se si prendono freddo si ammalano. Mettile dentro, dai. Come i bravi bambini. Disinfetta. Disinfetta, come? Dai, disinfetta. No, ma se non sei grazie, ragazzi, ragazzi. Eh, c'ho... Devo andare piano. Che vuoi? Ma che cazzo vuoi? Tonto. C'ho un bambino, un macchino. Non potete capire. Tu mi fai fare le figure di merda. Cioè, a Perugia mettono il cartello che non posso più entrare. Ma come no? Siamo sempre benvenuti, soprattutto queste mutande. Ma secondo te... Panda al lago, queste sono. Sì, panda... Panda a fangu. Ma no, ma no, ma no, ma no, ma no, ma no. Scusa, cosa vuoi? No, ragazzo. La gente è cattiva. Tu sei proprio matto, sei matto. A me piace il gatto, mi piace. Quando si è andata a chiacchierare, mi piace fare il gattino. Vai in Umbria, ha detto che vai ci perugina. Ci mettete, non la nocciola, qualcos'altro. Dimi che non sono amico, dai. Te la regalo questa, guarda. Tiella. A dorso nudo così. Me ne vado anche all'indietro, come in gambero, guarda. Guarda, come in gambero. No, no, sta tranquillo. Ma veramente? Ma non la lavo però? No. Annusala. Mannaggia che... Oh, se arrivi su a buttare dopo i coglioni... Mannaggia, mo del Dio. No, va bene, minacce no. C'è anche tutto qua, ti guardano tutti. Prima fila, eh. La macchina, l'ha presa tua sorella. Stai tranquillo, che lo sterzo ti arriva, guarda. Cioè, a un palmo sta. Ma come cazzo si farà? Ma come cazzo si farà? E che bello. La chiesa di San Damiano, dove si sono sposati i miei nonni, 63 anni fa. Qua la chiesa di San Damiano, e qui c'è anche una suora. Miau. Che paura che è bello. Stupide. Miau. 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 il gatto porti alla morte la morte l'italia chiamo si giamoci a corte sia pronti alla morte sia pronti alla morte tutti azzurrini anche noi due forza italia mi raccomando non molliamo niente è niente tutti belli concentrati o no sei carico la spagna no è carico è carico il cocodrello vai vai la moglie va perché almeno solo in salute salute sei carico come detto no chi mi accompagna a firenze domani uber le conosci o no chi è chi ha segnato chiesa o si è appato il primo dell'europeo che si è appato chiesa 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 Sì! In spagnolo le ho messo al culo! Sì! Buschetta! Come si chiamava quella? Bruschetta! Come gli fai la bruschetta? Come gli fai la bruschetta? Come gli fai? Fermati! Annaggia Crispotto! Aspetta! Sei contento o no? Sì! Oh! Sì! Che aspirazione! Ha segnato! Indifferita! Buonanotte! Buonanotte! Era indifferita! Noi già lo sapevamo! L'altra semifinale qual è? Inghilterra o Manfredonia? Eh! Inghilterra contro Manfredonia! Polvese però! Ma che cazzo dice? Ma l'Inghilterra è f***a della morte! No! Ma che? Ma invece il Manfredonia ancora c'è? Ma cammina! Tutto c'è! Perché? Perché ne vediamo le! Di che? Talla testa! Noverla! No- 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 No! No- 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 No! Weir- Grazie a tutti.